0.4 in meno di agility gain tantissimo 15 secondi in più del tempo di ricarica dello shrapnel e 0.6 secondi in più del delay di lancio e in più ti dà visione quando terra invece che istantaneamente super nerf a shrapnel super super nerf a shrapnel con in più no infatti il fatto che sia il delay più lungo e che non dà più visione vuol dire che non succede più che lo sniper ti lancia tre cariche di shrapnel e ti uccide in due secondi perché non ha fatto tempo soprattutto se magari è notta o così così ma oltretutto adesso sai dove sta per cadere lo shrapnel quindi hai un attimino di tempo per spostarti anche il discorso che sta scappando di shrapnel e istantaneamente l'ultimate voglio farlo vabbè comunque secondo me non l'anno ne è fatta abbastanza resta comunque grosso lo sniper resta comunque forte prima la parte lo shrapnel la parte lo shrapnel lo 0-4 10 giri di gain è tanto in più l'headshot può missare questo è tutto solo sì prima anche colpi evasi ti dava troccava l'headshot e arrivavano i danni l'headshot guarda adesso sono due questi due punti che secondo me sono abbastanza importanti nel match up l'1-1-1-mid sì sì e il nerf è il nerf dell'headshot l'headshot intendo l'headshot adesso missare sì sì ma può missare in che senso scolta prima se un eroe aveva passion per esempio sì sì e a te ti regava l'headshot indipendentemente da l'headshot o meno tu itavi per forza erano anche gli imbar ok quello era adesso non funziona più così quindi nel momento in cui ti ritrovi nel match up mid ad essere con l'emico che è in high ground e tu sei sotto anche se entri l'headshot e ti viene molto difficile passare o anche rastrittare eh ma adesso bisogna capire bisogna capire come si considera cosa si considera il ground e low ground perché per esempio no per esempio il livello del del mid ok è un livello superiore al fiume il fiume sta sotto alla mid però se vai al pit di roshan c'è un ulteriore gradino fai caso parlo del lato dei il lato dei radiant per capirci c'è un ulteriore gradino quindi lì è da considerare sempre low ground non so se avrei bisogno della mappa per farti capire sta storia cioè nel senso farvi capire spari l'ultimate spari l'ultimate dalla tua tu sei un dire spari l'ultimate dalla mid nella jungle radiant no 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 quella è low ground quella è l'asse quella è l'assassinette si parla di headshot della passiva l'headshot è quella che fa lo slow della ah ok sì 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 allora ho preso un abbaglio troppo ok il momento in cui nel matchup quant'è il miss da pillo 15-25 non mi ricordo 30 25 vabbè comunque ok facciamo finta sia 25 nel momento in cui dovessi triggerare questo 25% di miss quindi tu dici ok ho missato nel momento in cui invece entra l'headshot tu non hai missato funzionava così lo sniper adesso quindi hai questo svantaggio che funziona anche su deny sulla stit perché ricordiamo che l'headshot funzionava su deny sulla stit e più lo shrapnel non ti dà quella visione istantanea in high ground quindi ti puoi anche gestire un po' meglio il discorso di di trade a raid sono cose piccole che comunque fanno beh in più se spammi lo shrapnel per fare una kill c'è 3 cariche di shrapnel 15-30 è un minuto in più sostanzialmente per riavercelo quindi non è mai dai buoni nerf sullo sniper credo che sia un po' più gestibile secondo me si doveva ne fare di più eh vediamo la mob dobbiamo ancora andare la mob e scadia una carica assolutamente no una carica assolutamente no era veramente terribile prima non riportiamola come prima comunque vabbè spettere reality non uccide più l'illusione bersaglia scambia le posizioni soltanto ok ci sta già nell'ultima match o penultima era stato cambiato che prima una volta quando utilizzavi l'hound e poi ti trasformavi su una illusione le ucciseva tutte le altre invece adesso non le uccide più e adesso addirittura quelle in cui vai se poi te ne vai da un'altra parte e poi saltellare da parte a parte si si e ti lascia l'illusione dove sei andato vabbè niente niente spirit breaker cooldown ridotto ci sta cambia niente stone spirit bel nerf lo ci sta nel momento dello stone spirit lentissimo e in più grande nerf alla visione volante della ball lighting po' più difficile forse saltellare in giro penso che sia la differenza principale sì ma prima non so se ti ricordi per esempio tipo avimid avendo il bonus rigente da base della bottiglia quelle strazzate lì 3v ultimate fino alla torre avversaria mid e già sapevi se quello era dietro la torre nel boschetto dalla sinistra se n'era andato adesso non puoi più farlo sì sì mille anche quando facevi il giochetto di pushare in high ground e saltare in mezzo con lo storm vedevi dove cazzo stava la gente e tornava indietro adesso non puoi più farlo sì sì ci sta alla fine era questo problema in pratica puoi anche giocarlo ecco in foresta adesso non per forza ti vede ovunque sì sì ci sta buon nerf sel sven warcry armor aumentato tutti i livelli ci sta un piccolo un piccolo buff a sven perché era piuttosto 20 di armor è tanto però dura poco il warcry quindi oddio 7-8 secondi di dura chi cazzo ha bisogno dell'omiride quando hai skyline e tira porca più la velocità in movimento alla fine ci sta ci sta è finita la S quindi niente nerfa lo shadow find niente nerfa lo shadow find no pro tekis attivazione del landmine quelle rosse ridotte da 1,75 a 0,5 quindi esplodono molto più velocemente stessa roba per le stesse trap stessa roba per la detonazione buff generale il cooldown del suicidio ridotto tantissimo a livelli più avanzati da quasi 3 minuti da 2 minuti e mezzo a meno di 2 minuti fastidio e poi il segno del minefield è importante è importante è importante cooldown da 2 minuti a 6 minuti ah ok ah interessante l'han cambiato completamente non è più cosmetico c'è un piccolo upgrade per quello strong per cui ah lagarim ok fammelo leggere tutto ora ha un cursore di area d'effetto e ha un limited lifetime di 3 minuti con un cooldown di 6 quindi puoi averne al massimo una ogni tot tempo e lagarim scepter del tekis causa il simbolo del minefield che fa tutte le landmines si trapperemo smine entro 125 di area d'effetto immune al true sight oh ne può avere una sola infatti adesso adesso vabbè parliamoci chiaro se tu vai di un fottuto segnale sai che 125 di area massimo c'erano le mine si ha il problema è se te le piazzano sotto torre e tu devi passare per forza sotto la fottutissima torre mi ricorda qualcosa è quello il problema se sono dove sei obbligato a passare oppure con un minefield ben piazzato in mezzo agli alberi magari su qualche bordo però tekis deve poterci camminare esattamente sopra quindi non puoi metterlo in posti strani certo vabbè in ogni caso non basta che tanto dire il benvenuto a quella che nemmeno fa per forza una cosa in più non è un problema beh dai vediamo odio questo eroe lo odierò per sempre quindi me non lo vedo meglio ma vedremo questi campi il griglis sarà masturbato il griglis sarà contentissimo templar assassin cooldown del melt leggermente modificato pochi cambiamenti terror blade piccolo buff cast range the reflection è in più cazzo hoca però piccolo piccolo buff grosso buff what 100% di danni dell'illusione livello 4 però è il reflection vero è il reflection che è la quella che nessuno però vabbè adesso è carino il carry avversario si hitta al 100% sul carry avversario il late game infatti è strano perché in late game c'è pochissima gente che lo usa offensivamente invece già adesso il 60% non era per niente male sul carry avversario faceva davvero tanti danni 100% non male in più se magari è un un anti-maj o qualcosa di questo tipo si peccava anche tutti gli orbe il mana break il mana break un eroe sul quale potrebbe essere interessante questo reflection utilizzato è il tiny perché se non so come funziona esattamente però se il tiny dovesse avere il buff dell'aganim intendo la reflection illusion questo dovesse il tiny hitta anche gli alleati certo credo funzioni sarebbe da davvero c'è un problema l'aganim del tiny non dà cleave all'illusione c'è specificato ah ok è vero ah ok fail lo facciamo per lo sven allora dai lo facciamo per lo sven allora ecco lo sven è già il figo è da vedere se se conta anche gli oggetti di questa illusion ecco insomma si comunque il resto dell'eroe ha sempre i soliti problemi quindi l'hanno fatto un po' troppo beh comunque il cast range è qualcosa in più ti dà una mano in lane certo non è sicuramente quel 50% di slow livello 1 che c'era quando è uscito il terror però già ti dà un motivo in più per mettere un punto e magari tentare la kill in lane molte volte invece saltavano il reflection e anche il thunder mettendo 0 4 4 0 per puntare maxare le stat 0 4 4 0 poi il thunder lo metti chiaramente e la prima non la mettevi fin quando non mettevi adesso se volete interlecchi il ci può anche stare insomma vabbè trade hunter crack and shell migliorato ancora come ci sembra bisogno soprattutto livelli no tutti livelli 2 4 6 8 di blocco in più vabbè quindi che timberson reactive armor viene attivata quando l'attacco colpisce invece quando comincia come tutte le altre robe e gli stack massimi sono 20 adesso che non è poco più tanki più tanki 20 sono tanti perché quanto dava di armatura 1 per livello mi sa 1 per livello 1 per livello e anche HP region e anche HP region quindi dovrebbe essere buono ci sta ci sta però deve arrivare a 20 stack cioè tendenzialmente schiatta prima di arrivare a 20 stack si però magari se di solito magari ti tanki un po' di creep prima di entrare in fight quello si ah ma dipende anche l'illusion si dipende anche tinker il blind buffa tinker il blind il laser da 3 a 4 secondi e mezzo in late game 4,5 secondi di blind su un eroe che non ha la bicchia bambino non è per niente male anche anche il landing phase ti aiuta magari a deniare il creep anche il landing phase si si comunque il laser almeno a livello 2 o 3 lo porti soprattutto adesso ora che la marcia non farmi più gli agent giochi tinker in general max 4-4 full retard e riarma riarma anche costa un po' di più di mana a livello 1 ma costa di meno a livello 3 a livello 2 o 3 quindi magari non lo so comunque è tanto mana costa sempre 25 mana ah sì 25 mana anche a livello 1 non so 25 mana non credo sia abbastanza per non farlo livellare cioè di solito cos'è a che livelli boh aspetti tanto prima di livellare l'ulti il riarmo col tinker costa tantissima ma siccome non cambia niente beh in realtà in realtà quei due e un secondo di differenza sono tanti perché ma ammetti che vuoi spammare due o tre missili di fila con tre secondi di cd tra un missile e l'altro è troppo solitamente si alza comunque anche il riarmo sul tinker si si ma magari questi 25 e meno beh dipende 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 all'item che hai però si dipende vabbè 25 e meno di mana in generale niente di che accettare pochino e in più il laser con l'aganim scepter non ha più il cast addizionale ma ribalza tutti gli eroi nemici visibili entro 550 super troll in team fight penso sia fortissima sta roba abbastanza però devono stare al 550 di range che non è tantissimo no però dal suo eroe non so interessante vedremo vedremo tiny poco più di aggiustamento alla distanza da prendere il toss e gli alleati grazie 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 e in più ah questo è forte questo è molto molto interessante sì sì prende l'unità più vicina invece che una random è sempre stata una tragedia lanciare le cose con tiny invece adesso un po' meglio buon buff sul tiny trend protector la visione dell'ulti ha un po' di raggio in meno è un piccolo aggiustamento comunque è sempre tanto da 7800 comunque tanto troll world vediamo che nerf c'è oh berserk e rage non ti dà più 15 danni oh vuol dire che soprattutto il lane è molto meno forte perché 15 danni in lane phase era tantissimo è impossibile costantare non contestare io la stessa informabile in più Wearing Axis a distanza non ti dà più la visione e anche quella non dà più la visione anche questi due sono un forte nerf era ingiucabile eh sì era ingiucabile negli inseguimenti davvero fortissimo o anche per vedere oltre le scogliere battle trance cioè l'ultimate la durata è ridotta da 7 a 5 secondi però vabbè berserk e rage non è più rimosso dal death cioè rinasci sempre in forma melea o quella che avevi nerf forti forti nerf nemmeno tantissimo alla fine oddio oddio vabbè sì alla vision alla vision alla vision no al 15 di danno al 15 di danno in rage alla vision non può del trade rate perché ha 200 miliardi di danni lane al battle trance che dura 5 non 7 come aspettavo di più onestamente con il glifo blocchi tutta la battle trance beh non posso renderlo è vero con il glifo la blocchi completamente con il glifo blocchi tutta la battle trance sì sì vabbè quel discorso che quando muore non vabbè è inutilizzata la voce sulla crash ci stava ci stava soprattutto per appunto per la laning phase è tanto e comunque anche la visione si può giocare un po' meglio mi aspettavo magari un po' di più di riduzione di movimento qualcosa di questo tipo invece ce l'ho lasciata vediamo cosa cambierà forse sulla base armor sai anche anche quando sì sì task ice shard ridotto in costo di mana e il cooldown anche ridotto a tutti i livelli tranne il primo la visione è da 2,5 secondi a 2 secondi la ice shard è la Q però che mi confondo è la la lo spicchio di ghiaccio che lancia la prima sì sì è la Q ok che è posto non male 2 secondi di visione e il mana costa ridotto la velocità dello snowball è un ora un costante 6,65 e non carica più caricare ok ah il task può aggiungere le lati allo snowball mentre si muove ok aggiunto la in center nuova abilità chiamata warus kick perché il panze ce l'aveva già kicks spinge il bersaglio indietro di 900 unità il kick rallenta nel 40-50 e non fa danni una sorta di calcio dell'earth spirit senza danni è lo stesso però penso che l'idea sia uguale fai la combo rotoli contro D1 ti giri e lo spingi verso i tuoi alleati o verso la torre in più lo slow quindi penso sia questa l'idea non so se vale un agonim però sai che forse secondo me sarebbe stato più utile invertire il warus kick o l'urus punch e mettere il punch come agonim center sarebbe stato molto più utile al team secondo me con il kick di base vabbè alla fine è una finisher l'ultima del task il pugno diciamo il task non lo vedo molto come moltissimo di fare il danno cioè ti aiuta molto per il fight e ti aiuterebbe molto più col kick secondo me sarebbe stata una cosa migliore fare l'agonim per il kick non so quanto sia perché quando lo farmi un agonim sul task eh no infatti se voi vedete che fanno o danni o movimento o cose così però siamo sempre su quel punto lì andiamo sempre a buildarlo sì ma penso che da quello che abbiamo visto finora dalla patch l'idea di Esfro che diamo l'agrim a tutti e poi in futuro magari lo aggiustiamo un po' e vediamo se riusciamo a migliorarlo però vuole sempre dare la possibilità a tutti sì sì è sempre una buona idea di partenza per carità Undyne Soulrip è ora considerato un'istanza di danno sul nemico prima era assolutamente faceva toglieva vita a tutti attorno e poi faceva per ogni volta toglieva vita e faceva un danno un tot di danni agli avversari penso che materialmente non cambia assolutamente nulla però no magari tipo per il refraction potrebbe essere utile tipo per la TA per togliere le cariche prima glielo toglieva in fretta invece adesso non glielo toglie però per il resto non ve lo cambi tanto non si può più bersagliare la Tombstone con il Soulrip però la Tombstone ha gli zombie no 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 non contano più penso comunità per il Soulrip ah ok a posto ok capito 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 cioè mi sembra che sia stato nerfato sì praticamente adesso quando fai la cura i zombie che sperano non ti contano più per aumentare la cura ok capito detto chiaramente il primo il Soulrip quant'è che ha a livello 4 20 unità una roba 25 25 quando mai troverai 25 unità se non metti nemmeno i zombie o quanto sia sensata sta roba però adesso dei zombie hanno bisogno di un attacco per essere uccisi invece di avere 30 di vita prima saranno due hit dai creep quindi adesso anche i creep lo puliscono in fretta sì anche i creep possono uccidere però mi sembra un nerf al Soulrip che non ha senso cioè Gelandine Gelandine di per sé non è giocato perché nerfarlo secondo me in pub era tanto forte penso che le statistiche che ha lui che hanno loro alla Valve sono veramente forte l'erodefight molto spesso magari viene considerata sicuramente per la Tombstone per fare massacri ma nel farlo io personalmente non vedo Nandine in competitive no no infatti infatti addirittura nel farlo hit us è il rage dell'ursa l'ultima modificata adesso prima dava solo danni fissi in base alla vita quindi era un po' una skin noiosa no nel rage ti dava la veloci no no era l'ultima no no ok not what è il rage non era l'ultima sì 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 è l'ultima sì 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 è l'ultima invece adesso fa andare ursa in una rabbia facendo riprendere l'80% in meno dei danni da qualsiasi bersaglio da qualsiasi fonte e i suoi attacchi danno due e mezzo o tre volte i danni di Fury Swipe e rimuove una volta lanciato e dura 4 secondi 4 secondi fa tantissimi danni e super resistente eh sì ti leva anche tutti i debuff metti che se hai debuff di slow esatto una cosa che facilmente si faceva con l'urs era proprio quella di caitarlo all'infinito con slow e stronzo te varia adesso se te la gioca al momento giusto ti puoi togliere questi buff senza dover sprecare a Black Inbar che si salva e anche moltiplicare il moltiplicatore di Fury Swipe vuol dire che sono danni infiniti poi perché era un po' un concetto un po' del cazzo dell'ursa nel senso un'era agilità era costretta a tirare su HP quindi forza prevalentemente su un'era agilità un po' un po' così interessante questa qua certo la durata di 4 secondi è da gestire per bene 4 secondi sono davvero pochi per per però l'80% danni in meno quindi se lo utilizzi proprio in un momento perfetto del teamfight ti puoi cambiare al 100% del teamfight Venomancer finalmente ci sono danni a livello 1 invece di 0 si può fare una combo Gale e Ultimate e uccidere qualcuno forse vedremo ok penso che cambi solo per quella è un errore che mi sta molto simpatico adesso in Offlane il Venomancer sì sì abbiamo avuto ah giusto l'occo non c'era non c'era va bene va bene next Viper Viper Strike Cooldown riscalato a livello 1 e 2 cambia poco nessuno entrise il Viper sì poi comunque uno si fa l'Aganim che lo porta a 12 quindi cambia niente Visage tempo di ricarica ridotto per l'armatura che dà resistenza carino i familiari non hanno più un tot di vita ma hanno bisogno di 4 attacchi degli eroi per essere uccisi un buff perché prima tipo ladro eroi di questo tipo con tantissimi danni a distanza se li mangiavano con un hit invece adesso hanno bisogno di 4 attacchi buon buff è tipo perché i familiars erano vulnerabili ad alcune spell tipo la seconda del Bane adesso sì sì danni puri anche anche penso sono sempre vulnerabili danni puri penso di no a questo punto allora penso di proprio attaccarli per distruggirli eh sì perché era abbastanza osceno vedere sottati così dei familiari con una spell sì sì dei familiari dei familiari Warlock va bene fatal bond cast range è aumentato di pochissimo e il cast time è un po' ridotto un po' più facile da castare e i golem più rigenerazione quindi sono un po' più resistenti nelle fasi più avanzate della partita spesso erano shottati sostanzialmente quindi adesso sono un po' più resistenti ok niente di che weaver durata 16 secondi lo swarm a tutti i livelli invece di scalare e danni 20 a tutti i livelli quindi un po' di danni meno livelli più avanzati però attaccano più spesso quindi visto che riducono anche l'armor eh sì visto che riducono anche l'armor penso sia un buff tutto sommato giusto? o in realtà no secondo me l'hanno fatta apposta perché comunque si lascia sempre a livello 1 lo swarm su weaver potenzialmente è difficile che l'appi sì sì ti spingono quindi l'hanno buffata sì questo qua ti spinge ancora di più a lasciarla a lui esatto l'hanno buffata a livello 1 però fa meno danni i t che sono più lenti vabbè per l'armor pochissimo più per l'armor ok cambia si lascerà sempre l'1 penso però i geminate attack lancia il secondo priettine 0,25 secondi dopo il primo invece che dopo che abbia colpito il bersaglio un po' più più onesto e non ha più un raggio limite avevano messo il raggio limite nell'ultima patch perché la gente si lamentava e adesso l'han tolto ma che ora non cambia niente però aggiunto anche al weaver lag in scepter riduce il cooldown del timelapse a 20 secondi e permette di usare il timelapse sugli eroi alleati mille di castringe divertente ma nella pratica però aspetta 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 no non riflessere il dono no in questo caso l'orario ma non credo che cambi tanto winter ranger shake il cast point migliorato ok winter wyvern in capitans mod questo è tanta roba vediamo come l'hanno reworkato eh sì che hanno reworkato l'ultimate quelli ah ok quelli che devono invece attaccare il loro allenato cioè il bersaglio prendono il 60% di danni meno da tutte le altre fonti prima era quasi un black hole invece adesso solo sull'eroe principale fa tanti danni però aumentata l'area d'effetto e la durata aumentata a livello 2-3 e il cooldown aumentato a livello 1-2-3 eeeh nerf bel nerf sostanzialmente sì ti sarà per uccidere un bersaglio cioè il bersaglio principale gli altri invece gli fai un po' di danni aspetti che finisca la roba prima di fare i danni in più la Q adesso è dispellabile che fa tantissimi danni i danni per secondo però è aumentato dal 6% della vita all'8% che è tantissimo i danni però passano da puro a magico quindi c'è il fune di danni magici e non fa più niente oltre all'immunità alle magie quindi l'anno nerfata l'anno nerfata esatto la velocità dei sprinter bust è un po' più aumentata e il debuff è dispellabile con il dembrace funziona come rigenerazione normale invece di 0,1 secondi l'anno un po' nerfata ma la vedremo la vedremo come support perché è abbastanza forte come hero è piuttosto interessante la vedremo in competitive sicuramente vedremo vedremo perché comunque sì più o meno rimane abbastanza simile come struttura base quindi vedremo interessante ultimi due eroi skeleton king wright king aggiunto a ganim scepter anche oddio alleati che sono vicini al wright king entro 1200 di aoe quando sono uccisi diventano spettri per 5 secondi ritratto la loro morte possono continuare ad attaccare castare quando la data finisce l'eroe muore e il credito per la kill va a chiunque lo avesse ucciso prima figata 5 secondi sono tanti sì sì vedremo l'effetto grafico di sta roba sì perché deve essere una figata tipo gli spettri verdi degli eroi che muoiono gli spettri degli eroi o gli spettri alla world of war cioè l'eroe vedremo e finalmente Zeus visione della della no dell'ultimate dell'ultimate ridotta di un sacco interessante è fixata che può colpire da molta meno visione quando vuoi scautare ma comunque è una schifo finiti gli eroi item che penso ci sia un cosa sono ste robe qui nuovi item oddio nuovi mangiabili no no dai questa è una trollata enchanted mango enchanted mango costa 150 gold e ti dà più uno di hp rigenerazione se lo usi ti dà istantaneamente 150 di mana può essere dato a un alleato è una clarity istantanea in pratica costa 100 gold in più ti dà non capire ebbè diciamo che a questo punto i support non devono più comprare i tango possibile però non staccano in un solo slot quindi ne puoi avere una sola o riempirti l'inventario diciamo che utilizzano questa per startare mi sarà item da mid questo in realtà no no non lo so secondo me è più utile su support se sono in safe lane ok off lane anche spesso è in contesto dico spesso i support in safe lane si ritrovano ad avere troppa region molto spesso infatti non startano nemmeno con classico salve tango perché sono troppe effettivamente di anziché avere quella salve in più piuttosto di prendere uno di questi e ti dà la possibilità di fare quella game lo poppi quando serve sai quel tp mid dici non è il mana se arrivo giusto tp usi questo e il mana non c'è è utile per il stappo e comunque uno di hp rigenerazione ti permette di fare un po' più di cose qualche 3 diti in più magari 150 di mana instant è tanto è una spell in pratica è una qualsiasi spell in sostanza anche se lo paghi 150 gold effettivamente anche tanto beh come la pozza alla fine un po' di più della pozza un bocco eh lanza su 3 last hit sono delle ward praticamente chiarino bisogna vedere come si riesce a giocare lotus orb nuovo item formato da perseverance plate mail e una recipe quindi 4050 di gold come uno a livello della bloodstone quindi che si fa più o meno con gli stessi item ti dà 5 di hp rigenerazione 125% di mana rigenerazione quindi bonus della persevera sostanzialmente block non ti si sente oi io sento abbiamo perso l'irve abbiamo perso l'irve l'host l'irve peccato vediamo dove è finito comunque dicevo sono i bonus della persevera perché hp rigenerazione in più c'è 10 di i match 10 di armor può essere disassemblato vabbè attivo eco shell bersaglia unità alleata dispellando i buff negativi solo un'arma di spell non gli stun e applica un eco shell buff per 6 secondi quando c'è un buff attivo ricasta tutte le spell bersaglio indietro al suo lanciatore non blocca la spell la rispecchia indietro sei tornato nero si si ci sono ah ok è una cosa non riesco quindi è un carapace dell'x in pratica o una blade non ricevi però quella blade ma ricevi anche tu invece quel carapace proprio non ricevi ho capito però costa 4k di gold c'è da tank eh si questa ricevi perché questa non blocca la spell la fa solo rimbuffare indietro tra l'altro la fa rimbuffare indietro ma non solo i danni perché anche tutti i debuff gli stun e tutto il resto viene rimbuffato eh ma non mi chiaro se tu ricevi o meno un buff negativo c'è scritto nella nota sotto non blocca la spell ok si si perfetto però ti spella quando l'applichi la prima volta vale la pena spendere 4k questa cosa diciamo magari per counterare l'ultimate di lina l'ultimate grosse quelle che fanno tanti danni l'ultimate di quop che ne so no perché è solo target quindi non l'ultimate come la link è situazionale molto molto bisogna anche vedere se i componenti sono anche utili nell'essere utilizzati insomma si perché puoi disimularla però non da stat nel senso non so su quanti eroi ti possa servire il prendere la perseverance e poi metterci una plate mail sono degli oggetti che a livello di costo non ti danno molto ok l'oggetto finale è un po' lo stesso problema che si pone con il con il bail è un oggetto che tutto sommato può avere risoluto di te e tutto però uno dei problemi principali di quel coso sono gli item che ti portano a farlo sono degli oggetti che messi assieme non è difficile che riescano non sono costo efficiente per quello che ti danno e i slot che ti impegnano questa cosa penso sia un po' per questo oggetto qui oltre che il costo non è poco adesso sono sempre 4.000 gold è tantissimo bisogna vedere gli eroi sono disposti a modificare la propria build mi hanno fatto vedere un link in chat del doom che lancia doom e si becca doom ecco la vediamo però rimbalza non se la prende l'ashark hai visto? facciamola vedere anche sullo stream era bello evidente l'effetto dell'oggetto almeno quello si 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 è come una link sphere che però rimbalza vedremo vedremo andiamo avanti glimmer cape mantello luccicante penso sia in italiano nuovo item formato dal clock ed è lasciato da omelette quindi 1950 di totale sembra un item da support vedendo il costo ti da 30 di velocià d'attacco no allora non è la support poi vedremo 30 di velocià d'attacco come la lottara e il 20% di resistenza magica può essere disassemblato e l'attiva è glimmer bersaglia un'unità alleata e la fa diventare invisibile dopo un 0,4 secondi di fate time mentre l'invisibile guadagna il 66% di resistenza magica dura per 5 secondi l'unità invisibile può muoversi durante quei 5 secondi ma attaccare o castare una spell la farei tornare invisibile eh no però dopo un 0,4 tornare di nuovo invisibile sì sì sono i temi sono sicuro su quali hits o cosa dovrei puoi farlo è tipo l'ultimirana diciamo mi sembrano dei buff che non hanno un senso l'uno con l'altro cioè non c'è una sinergia tra questi due buff ma rendere invisibile un alleato per dare il 60 per la visione di magic resistance però non deve attaccare dillo Zeus non ti shotta più non so vedremo bisogna darti vedere come che fanno anche gli oggetti per comporla cioè guarda lì però che la clock è utile per carità però puoi dover puntare a 1400 di shadow amulet sì comunque sono utile e costano abbastanza poco quindi nuovi boots guardian greaves formati dagli arcane boots se devi dare magic resistance fai una pipe per intenderci ah no no beh sì 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 infatti però il 66% non è poco comunque più alto della pipe no no non so guardian greaves formati dagli arcane boots meccanism e una recipe quindi un po' più di late game per il corso da 5.300 in tutto e da support probabilmente 55 di versaglio in movimento 250 di mana 5 su delle stazze 5 l'armor passiva ti da beh lo stesso bonus della della meccanism però quando un bersaglio quando una quando un alleato la vita è più bassa del 20% invece ti da 15 di armor e 15 di health di generazione che è tantissimo e in più però no rimane a boots però quando l'attivi no 45 su dei cooldown ti fa sia il mana che la vita del del meccanismo ma questo non è non è affatto male e in più rimuove buff negativi si è meccanism boots meccanism boots attivi per late game da support o da posizione 3 qualcosa di questo tipo non è male vabbè a questo punto per la shadow fin mid invece di fare mac non è male nel senso quei classici eroi che in genere fanno il mac possono trovarli utili per esempio prendi il chen per il chen ti dà quell'aura lì di armor e hp region che in più ti aiutano anche a pushare in momenti in cui gli alleati ti hanno quella poca vita ti viene anche più facile salvarli perché hai quei bonus non indifferenti in più riusci a unire due oggetti che in genere ti occuperebbero due slot non è che butto io non è che slot però si 5300 gold se non sei un core da support sono difficili da farmare quindi però comunque sono fatti da oggetti che comunque si fanno da oggetti che non so poco si si da parte la recipe che costa tanto anche magari su enigma su enigma esatto anche che rimuovi negative debuff quindi magari c'è qualcosa che ti blocca il blink hai l'ignite addosso una scherpezza di questo tipo vedremo ancora item nuovi ma quanti ne hanno messi tantissimi moon shard nuovo item formato da 2 2 hyperstone e una recipe costa totale 4300 e ti dà 120 invece di attacco basta passivo ti dà 250 di bonus velocità di notturna bellissima 250 di visione notturna è tanto è molto buono in più uso può essere consumato per guadagnare un permanente 60 di attack speed non stacca sono talmente farmati che non hanno più un cazzo da comprare no secondo me magari da mid game su certi eroi ci sta tipo tiny sulla legion perché sulla legion no si si tutti quegli eroi che vogliono tanto necessità d'attacco e poi quando arrivi late game lo consumi e prendi qualcosa di più utile ma anche su quei carry che come ha detto nir variano in late game che sono full slot prendi un anti-mage l'anti-mage capita che si ritrovi in late game senza butterfly perché ha bisogno di altri oggetti come abyss o blackimbar cose simili e magari manca un po' di quella attack speed questo oggetto te lo dà o anche un alchimist giocato carry un terrorblade naga naga siren due questi carry che magari mancano di attack speed o semplicemente arrivano troppo farmati late e non è possibile di prendere un oggetto in più che non ti occupa sul lotto fondamentalmente si si druido il druido si sull'orso sull'orso non lo so se io non funziona sulle illusioni quindi sull'orso penso funziona dove andare dove andare bisogna essere la puntata come hero unit non è come insieme allora silver edge nuovo item fatto da shadowblade e sanje e un rsip 5200 di totale ti dà 32 danni 30 attack speed 16 di forza il lesser maim della sanje e shadow walk con in più l'attacco fa 225 di danni e in più da break cioè disabilità delle passive e riduce l'output dei danni di qualsiasi tipo di danni del 40% per 5 secondi del bersaglio e non può missare quando attacca per fine l'invisibilità bellissimo questo sullo shadow è perfetto sembra uno sai su chi vedo questo oggetto decente sul dragonite spesso fanno la video con lo shadowblade sì o anche sul lifestealer su tutti quegli eroi che farebbero sanje di per sé e poi farebbero come una cosa di questo tipo però un hit da 225 è in più disabiliti anche le passive e quindi lo fai sul carry avversario in teoria se tu hai questo oggetto qui per esempio su un dragonite ok ipotizziamo un shadow walk non puoi missare il prossimo hit vai dalla PA da hit togli le passion e di conseguenza dagli puoi cliccarlo forte fortissimo interessante e la recipe costa nulla praticamente 350 350 sì potresti dire che adesso aver fatto manta e poi la la smonti e fai hai anche la possibilità di avere il lesser main cioè lo slow sì sì non l'ho fatto io io questa sullo shadow perché tipo io lo shadow fin da lo gioco con la lotars no e solo che facendo la lotars hai sempre quella problematica di non avere abbastanza HP sì sì invece adesso finisci una sanje è gigantesco questo item mi piace mi piace più di 7 eventuali passive come appunto lo di cui parlavo prima che in genere ti obbligano spesso ad andare per la monkey se lo shadow sì in più il 40% di danni se lo fai su un carry avversario è un bel po' o anche su lo fai su l'ina per esempio 40% di danni meno l'ulti per 5 secondi o tutte le altre spell interessante solar crest è l'ultimo no ce n'è ancora uno dopo 9% in formato dal medaglione e dal teresano dell'evasione costo totale 3000 10 di armor che poi adesso siano quelli del medaglione 35% di mana region come medaglione e 30% di evasione attiva perdi l'armatura e l'evasione bersagli un alleato come medaglione bersagli un alleato 10 di armor 30% di evasione lo dai a carry sostanzialmente metal ancora 10 o si se invece lo fai su un nemico li toglie a lui 10 di armor e gli dà il 30% di miss per 7 secondi 30% di miss non è poco buff del medaglione per il late game ci ha messo tutti item che costano poco che in late game si possono ancora usare bella mi piace anche se i nomi potrebbero pensarci un po' meglio perché sembrano nomi un po' sceni ma comunque optar in core nuovo item formato da una misty star staff e un soul booster totale 5009 che è un bel po' per un item ti dà 201 intelligenza 4500 di ep 400 di mana 4 di hp di generazione 100% di mana di generazione ok come la somma dei contenuti passiva riduce tutti i cooldown del 25% e in più ti dà il 25% di lifesteal dalle spell 25% sugli heroes e 5% sui creep e questa sullo zeus ce la vedo veramente oscena anche sull'ira spammi fulmini spammi fulmini e recchilita edz fondamentalmente su eroi che hanno bisogno di hp quindi eroi hint che hanno bisogno di hp mana regen mana pool e si basano sullo spell quindi il cooldown è utile mi sembra una sorta di refresher è facile da fare nel senso che magari cominci a fare gli arcani già magari una volta li ignoravi invece adesso fai gli arcani e poi per arrivare a un soul booster ti serve poco mi sembra una sorta di refresher che ha una costanza maggiore nel senso che il refresher ti porta fare file in cui tu usi refresh e utili le spell molto spesso ok invece questa qui ti dà una costanza nel tempo maggiore cioè puoi dire le spell hanno meno il cooldown tra breve tempo se di nuovo attivo e così via mi sembra una cosa più costante sull'inboker è anche più facile da costruire perché obiettivamente il refresher da dei buff cioè dei componenti danno dei bonus abbastanza riscuotibili di per sé fin quando non hai refresher completo tra questi sono molto più utili specialmente per un caster belli item mi piacciono c'è quello che mi piace di più tra quelli che abbiamo visto ah altri item no item addition osservare senti i word staccano in un solo slot dell'inventario utile per i support doppio clic su di loro sceglie quale word è attiva al momento ottimo oddio aspetta puoi staccare le sentry e le si si in un solo slot quindi se un support è che cambiano se sono sentry observe potrebbe essere un po' confusionare all'inizio magari durante un team fight puoi mettere giù la sentry invece se è selezionato l'observer però abitudine vabbè niente di che comunque i boost of travel possono essere upgradati comprando il nuovo valor chip quindi in tutto sono 4450 gold e ti consentono di bersagliare e teletrasportare da bene gli altri eroi non ne vale la pena prophet tre volte in base e quattro non arriva dos carino beh magari soprattutto su eroi che vanno di trolling neviche che ne so bounty ricky nix eroi di questo tipo magari di in più che non fa male insomma non è come spendere i soldi invece sul caro item changes scusami scusami una piccola aggiunta soprattutto ti aiuta nei momenti in cui c'è da contestare un rush spesso ti ritrovi troppo distante per tippare in qualsiasi cosa esatto esatto vabbè ma devi spendere devi spendere 4k e mezzo però dico quando ti parlo di una sezione di late game in maggior parte sarà sicuramente solo sul carry hanno aggiunto un sacco di item da late game qui magari vuole che i game durino oh due ore il 45 me lo dì già so tanti vedremo scul basher un po' più di strength però basher fa 60 il basher fa 60 danni bonus però quanto faceva 45 mi pare 45 quindi il totale uguale no faceva poco il basher del scul basher guarda aspetta il basher faceva 40 40 40 20 in più e il cooldown interno leggermente aumentato vabbè è un piccolo nerf un piccolo cambiamento non so esattamente cosa cambia poco abyss of blade danni ridotti anche questa però fa il basho con più danni e il cooldown aumentato vabbè è la stessa cosa praticamente energy booster costa meno quindi gli archive boot per il support sono molto più facili archive boot che tra l'altro sono anche stati baffati subito sotto perché il raggio di ricarica è aumentato ancora una volta e in più non costano più di 35 mana per attivare quindi sui support sui lancia è ancora più efficiente quindi potremmo vederli è una cosa interessante 135 di mana che resta rovin devi 35 insomma esatto esatto non è roba da poco bloodstone recipe aumentata di 100 di gold ci stava perché comincia ad essere un po' troppo facile da fare armlet buon buff all'armlet 10 di attack speed in più ah no ok ce l'ha di naturale perché non te lo dà più quando lo attivi è un po' più veloce il guadagno della strength quindi della vita e dei danni ormai non lo fa non lo fa quasi più nessuno l'armlet quindi life stealer penso e basta beh sì soprattutto perché ultimamente si sono visti troppi carri al gira quindi vedremo tra il decay life stealer così si cambia qualcosa quailing blade cambiati da danni totali a danni bonus eh damage bonus eh damage bonus damage bonus cioè praticamente adesso non incrementa tutto il danno che fai ma solamente quello di base infatti l'hanno un po' aumentato per renderlo più più utile e in più non fa più danni e bonus a roshan questo è un forte nerf contro rooshan in fretta effettivamente ormai la la quailing blade era un must su tutti i romili tutti cioè su tutti i carri mili avevi bisogno della quailing blade perché veramente ti velocizza il farm in una maniera allucinante piccolo buff anche range a 12 al 15 sì perché non è più intero solo il base quindi erano un po' non so però l'attiva l'abilità di chop ok kill è una ward immediatamente grazie a dio perché a volte non so che erano un sacco è triste e il raggio aumentato argento giocando a 14 ho fatto una partita qualche tempo fa in cui due support me le cioè tipo sanking e spirit breaker è impossibile uccidere le ward ma comparare la battle fury ora la battle fury ha bisogno e provvede e dai bonus della quailing blade il bonus è 60% per il mle e il 25% per il range l'attacca range l'attacca da image è ridotto un attimino e il cleave è aumentato ancora meglio per farmare i creep sostanzialmente quindi adesso fammi capire se ho bisogno della quailing blade per buildare la battle fury esatto però poi fai 60% in più di danni ai creep e il chop rimane la possibilità di fare il chop non credo no comunque tutto sommato è un buff nel senso quando fa la battle fury significa che può andare a farmare quindi ce l'è sempre la quailing blade parliamoci chiaro ti riduce il tutto e non lo svolta solo il 60% di danni bonus ai creep è tantissimo è molto utile ok carino blacking bar può essere venduta grazie a dio però se la ricompri assieme la salta vabbè blade mail cooldown ridotto ok base of attack costo ridotto quindi phase sono più facili da fare di 60 gold beh non sono i phase ma anche l'armlet la daedalus basta non c'è nient'altro da usare blade vabbè sono piccolezze alla fine 30 gold si non è niente faceboot leggermente ridotti e il cooldown dei boots of travel leggermente ridotti sono tutti nerf piccolini per aggiustare un po' gli item butterfly quando la t per essere più veloci da 8 invece adesso da 6 il bonus movimento è un po' di più clarity dura un po' di più e ristora un po' di mana e lo puoi lanciare proprio lontano la clock un po' di resistenza dei danni magici perché poi ci devi fare anche l'altro item che non mi ricordo già più come si chiama vanguard il damage block è aumentato di un bel po' da 67 al 75% non è poco eh 8% in più per un po' per niente attanta non penso sia abbastanza per farla fare su eroi che non la facevano prima però ho abbaffato la crimson crimson guard si adegua con il damage block della guardia della guardia un po' più aumentato e il raggio un po' più aumentato penso sia uguale a quello del mecca adesso ma si è sempre solo axe centaur insomma si 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 bris veck centaur axe slard slard block volendo un po' così comunque si sta a peggiorare lì deso 10 di danni in meno non pensavo ci fosse bisogno di nerf però leggi bene ah la recipe cosa si sente in meno tantissimo c'è adesso costava 3.900 prima no prima costava 1.200 una volta costava 1.200 no 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 di tutto prima il deso 4.200 costava adesso costa 3.600 niente no scusa 3.900 eh tanto comunque alla fine la cosa gigante del deso è l'armor redaction non il danno bonus quantità si si non è male la diffusa blade funziona sugli eroi ranged per la metà del valore prima sui ranged la diffusa non faceva niente sulle illusioni degli eroi ranged intendo adesso invece è borna metà della 10 vana invece che su mirana penso fosse l'unico ranged in cui si faceva anche il tb ma era molto raramente ho visto anche borna anche il tb ogni tanto o clinks ogni tanto girava la build con il clinks con la db si si per il purge per il ghost o il tb se conti comunque l'illusion tiro si si quando fai la metà la fossa eh vediamo 30 danni in più divenne rapier vabbè cambia niente comunque uno quando la fa la fa ancora più movement slow per la dust mi piace questa cosa più tattica drums 10 a 20 di speed bonus in più di dark speed cambia niente non è il motivo per cui si fa i drums 100 in meno della eagle song penso che sia stesso costo della della river adesso giusto si si stesso prezzo quindi un po' più aggiustato eul ha 100 in più del eh si bel nerf all'eul 100 in più di manacostra è abbastanza si si non è non è per niente poco eh adesso adesso diventa più complicato fare eul e tranquill adesso mi sa che l'eul lo devi affiancare comunque a dei arcane eh si eh si o farlo un po' più ampio comunque ti bruci un discreto mana pol eh la 5 di mana è tantino eh si soprattutto se lo fai come support come primo item senza arcani come dicevi ah si beh bel nerf si farà un po' meno probabilmente faremo più vedremo più arcani prima magari arcani forza qualcosa di questo tipo nerf a scadi eh slow da tre vabbè interdiche aspetta ok vabbè stessa prima le 5 per i mele quindi non abbiamo niente i mele flying courier è più veloce ha un po' meno visione quando utilizzi il burst quando ti deve portare la bottiglia per esempio penso che sia più più utile sì alla fine cambia pochissimo sono tagli sì cambia poco forstaff uno in più di health di rigenerazione per secondo quindi per i support ritorna ad essere un buon item probabilmente invece di tranquus che magari li ha nerfati vedremo non cambia tantissimo e anche il ghost scepter un po' ridotto il costo ma dà un po' meno bonus sono tutti item da support quindi da parecchi bonus in meno per 100 di gold per di 2 di tutte le stat vabbè sì però è un item tanto forte quindi ci sta glovo face 5 in più di attack speed eh carino tanto poi comunque li utilizzi per fare altre robe non li utilizzi mai da soli address sono rinampurati tutti a 900 quindi non cambia tanto healing salve ok cura più velocemente di 2 secondi un po' più comoda in brutte situazioni ah river l'hanno aumentato di ridotto anche lei arriva a 3000 però l'earth of tarrasque hanno aumentato di 200 la recipe quindi il cuore costa uguale probabilmente costerà di meno l'abissa o la satanic penso no non l'abissa la satanic la satanic non so vabbè poca roba poca roba il cuore è stato buffato di un bel po' dal 2 al 3 25% di vita totale per secondo bel po' 50% nel blu si zabilita un po' di tempo penso che potranno tornare a vedere un po' più di cuore forse si pensa che una volta il cuore non non si debuffava mai cioè era sempre attivo c'erano iro che non morivano mai è stato un po' dimenticato vedremo se continuerà a tornare link and sphere cambia niente un secondo meno di cooldown la magic wand si fa quella stick cambiata da stick tra branches e resip a magic stick più due branches più un circlet e un attribute in bonus in più costa molto di più adesso scusami anziché prima costava 500 giusto adesso costa non c'è più la resip però ah ah no allora è lo stesso sì penso sia lo stesso 50 sì dovrebbe essere lo stesso il circuit costa 200 adesso penso sì allora sì sì costa uguale costa uguale però da uno stampo stati in più ok meglio meglio mask of madness movement speed quando attivata dal 30 al 17 per cento non so se abbastanza ma è già qualcosina sì ci può stare non sei più superman quando corri sì sì ci sta vabbè qui sempre il solito 900 di range del mac il solito 900 di range Mjolnir static charge non ribalza più sull'unità che sono invisibili o nella fog of war ok ci stava perché era un po' assurdo e il cast range è un po' più aumentato ok puoi dare gli alleati un po' più distanti ok necronomicon un po' più buffati ma non penso che cambi tanto sia i danni che la vita che un po' di tutto sia degli arcieri un bel po' più di danni però da 25 a 45 da 40 a 60 il livello 3 comunque è uguale il livello 3 è rimasto uguale a tutti i livelli un po' più forte è il livello 1 e 2 non ci sono tanti eroi che fanno il necro warrior adesso comunque sì ormai non si tocca anche più il necro si usa poco observer world arrivano le compri in singole il costo e il restock sono aggiornati per far diventare questa cosa danno 50 xp aspetta aspetta un attimo cost and restock time reduced by half ok però lo stock è doubled quindi vuol dire che il doppio delle world disponibili no secondo me vuol dire che è la stessa quantità ma che sono a cose di 1 abbiamo perso anche levi comunque abbiamo perso anche levi ormai è tardissimo sì cioè invece di averne 2 cioè invece di ristoccarsi a blocchi di 2 se ne fa 1 alla volta penso sia l'unica differenza e attaccare una world non puoi più missare vabbè è buono quanto no no è buono perché vabbè sì 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 quando dai 3 ti missi e arrivano e ti stuprano perché ci hai messo 3 ore per divordare orbo venom può essere letale vabbè ne fa 3 tipo quindi non chiedo che ami qualcosa Laura della pipa fa il 10% di magica resistenza tu e gli alleati vicini non male questa è forte bombata sì 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 a voglia il 10% di magica resistenza è tanta roba sì sì magari la vedremo usata un po' più spesso si sta carino vabbè power threads un po' più aggiustati beh no è buono questa cosa perché per lo switch con un punto stati in più sì 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 è buono ma penso sia perché uno ha aggiustato qualcosina penso che hanno cambiato i bonus non mi ricordo sì sì è buono uno in più per gli switch è piuttosto buono sì sì quarta staff il costo è leggermente ridotto il costo del recipe della radiance è aumentato oh oh my god la radiance fa missare il 17% agli avversari stranissimo bruttissima sta cosa prima si parlava prima si parlava di di refresher l'ha cambiato completamente il vecchio dava un po' di schifezze e se arriva oblivion staff perseverance e receip invece adesso dà meno schifezze cioè non dà più l'attack speed e non dà più l'int però dà un po' più di maligenerazione un po' più di più di regenerazione ci fa sempre quella perseverance due perseverance e una receip niente oblivion staff mi sbaglierò meglio meglio sì sì meglio può tanto alla fine di refreshere un item che si fa molto raramente sì sì e poi lo fai tutto un pezzo non è che ti metti a pensare a cosa il pezzo di zero vedremo cosa cambia intelligence un po' di più della Rodofatos ci sta perché comunque è un item che non fa nessuno e che devi farla dei item strani quindi ci sta un po' di intelligenza satanic mezzo secondo in più soprattutto forte per i carry che fightano a lungo sono molto resistenti magari tipo troll PA cose di questo tipo non che lo cambi tantissimo da mezzo secondo o lo uccidi immediatamente quando uno usa satanic o comunque si rifulla infatti due hit si rifulla due hit si rifulla senti il ward non puoi più missarla quando l'attacchi grazie a dio un po' più di miglioramento alla Laura della Shivas ma comunque è sempre su su hit Stout Shield costa 50 di meno ed è un po' più in meno di damage block è parecchio tantissimo però si la probabilità è più o meno la stessa ma il damage block è tantissimo beh no 4 e meno 4 e meno si va bene e meno tantissimo si alla fine però è un circa 20% quello dopo è interessantissimo i tango possono essere usati per mangiare le ward mangiare una ward ti cura per il doppio della quantità ti dà 200 30 hp entro 15 secondi perché le ward hanno un gusto migliore ok quindi support le ward con i tango carino vabbè magari soprattutto con quella situazione quando il support è mili e povero cristo non la può distruggere mangiare un tango e gg carino tp cooldown di 5 secondi e non rimuove più lo stato eterolo quando hai lanciato questo è forte se magari sei un support e ti vuoi usare il ghost scepter e scappare prima si toglieva il ghost scepter quando usavi il tp e ci sono toglie più quindi è proprio facile scappare non tantissimo se non hanno disabled magari sei contro un carry avversario puoi scappare facilmente ok urno shadow lanciandola su un nemico che è già sotto l'effetto dell'urna refrescia la durata di esistenza invece è un piccolo nerf come non lo sapevo che potevi spammare la urna sulla gente non lo so nemmeno io forse perché è un cd lungo non si cede spesso adesso la refrescia ok vabbè comunque sono dettagli nel senso io non avevo mai spato onestamente due urne se non hai il cooldown è più veloce più c'è più lungo quindi magari di avere due urne nello suo tp una cosa del genere boh recipe della velo ridotto vabbè intanto non lo fa mai nessuno il cooldown ridotto la durata ridotta e il mana cost ridotto è un item che non fa quasi nessuno magari tipo airshaker il sandking il late game il veus magari per il resto no potrebbe essere un po' meglio per qualche eroe ultimo item siamo arrivati in fondo vladimir finalmente life steal dal 16 al 15% leggero nerf però dal 10% agli eroi ranged che è molto forte un po' come il red king però ho bisogno di un address invece ring of region ah quindi costa di più però ti dà più due tutte le stats e ti dà eh ma adesso si può fare anche sugli eroi ranged esatto esatto o sui support interessante interessante questa cosa che patch strana comunque hanno baffato tantissimo i support nel senso che adesso i support sono molto più liberi si si e anche con tutti gli item che hanno aggiunti anche in late game i support possono fare item strani possono rendersi utili vabbè non ci resta che giocare si assolutamente e grazie a tutti per quelli che sono rimasti qui con noi fino alle 7 erano più di 20 siamo sicura qualche sopravvissuto anche noi abbiamo perso qualcuno ma bella patch sembra interessante bisognerà giocarla per vedere sono curioso sono curioso si si anch'io grazie a tutti allora can't wait can't wait can't wait è tornato Levi intanto è ritornato va bene dai direi che è arrivata anche ora di andare a dormire yes grazie a tutti grazie a tutti grazie a Levi grazie a Nero grazie a Cyber bye bye grazie a te notte ciao a tutti va bene buono